Ciao a tutti! Oggi sono qua per truccarmi insieme a voi e provare una cosa un tantino nuova per me perché non sono molto abituata a truccarmi di blu, mi sono truccata di blu tipo due volte in vita mia però è un colore che vorrei utilizzare sempre di più perché mi piace addosso secondo me sto meglio con i colori freddi, a parte il pesca che mi piace tantissimo su di me gli altri colori anche semplicemente in marroncini caldi su di me non li vedo tanto bene quindi mi piacerebbe sperimentare un po' di più anche con questo colore e poi mi andavo a fare un paio di chiacchiere con voi riguardo delle tematiche che mi stanno a cuore principalmente riguardo alla gentilezza, al volersi bene questa volta parto prima dalla crema viso visto che ancora non l'ho messa così ne approfitto per farvi vedere la nuova crema che sto utilizzando perché la Ginzing per me è stata un totale disastro oltre a profumare tantissimo di arance, sapete che io detesto l'arancia in maniera più assoluta mi ha fatto venire degli sfoghi tremendi in questa zona e sono sicura che sia stata la crema perché nel momento in cui ho smesso di usarla e ho continuato ad utilizzare tutte le altre cose che utilizzo comunque per il viso la situazione è migliorata tantissimo quindi ecco io ho continuato ad utilizzarla per finirla ma mai più la crema nuova che sto utilizzando è sempre di Origins e voglio dare una seconda possibilità a questo brand visto che la maschera comunque mi piace tanto vabbè comunque sto utilizzando la Zero Oil che dovrebbe essere più adatta al mio tipo di pelle che è misto tendente a olearsi nella zona T ma in questa zona è veramente molto secca quindi io in genere questa la utilizzo soltanto di giorno e la sera vado soprattutto in questa zona ad utilizzare qualcosa di più corposo per i contornocchi visto che adesso mi devo truccare utilizzo invece questa crema che è super leggera è tipo un gel che si assorbe subito lasciando la zona molto idratata e la utilizzo praticamente tutte le volte che devo subito dopo truccarmi così non scivola ad esempio il correttore ed è la Roche Posay per prima cosa utilizzo il primer perché ho la palpebra un po' oleosa quindi dopo un po' di ore gli ombretti tendono ad andare nelle pieghe e con questo prodotto invece non mi succede mai lo adoro è magari un po' costoso però dura tanto perché alla fine ne basta pochissimo e vale comunque i soldi investiti come vi dicevo voglio truccarmi di blu colori non molto frequenti nelle palette io in particolare utilizzerò questi colori della Soul Blooming di Nabla ovvero Anemone che ovviamente è il colore più scuro utilizzerò anche Flowery e darò un tocco di luce con Garden Gate che è questo colore duo chrome molto molto bello che ricorda Alchemy sempre di Nabla però è più leggero ho trovato poi un altro blu in questa piccola palettina abbastanza segnata e vissuta comunque il colore centrale è un bel blu e niente questi sono gli unici colori blu che ho quindi utilizzerò questi allora quello di cui volevo parlare oggi è essenzialmente la gentilezza che può sembrare una cosa abbastanza scontata io in realtà credo tantissimo nella gentilezza nella gentilezza verso le altre persone in primis però nell'ultimo periodo ho tra virgolette intrapreso un percorso di gentilezza anche e soprattutto verso me stessa intanto utilizzo Flowery come base perché gentilezza verso me stessa? perché ho visto che personalmente riesco ad essere più facilmente gentile con le altre persone ci mi viene molto spontaneo essere sempre disponibile quando posso mi piace aiutare le altre persone non solo perché mi sento utile effettivamente ma perché mi piace essenzialmente aiutare le altre persone mi piace anche far sentire le persone a cui voglio bene appunto importanti, amate, speciali e quindi mi impegno tantissimo in questo soprattutto con i miei cari mi impegno, non dico ogni giorno perché ho i miei limiti anche io però cerco veramente di impegnarmi molto nel far star bene le persone a cui voglio bene e soprattutto di ricordare loro quanto sono speciali questa cosa però con me non la faccio mai e secondo me invece è importante essere gentili anche con se stessi anzi forse è ancora più importante essere gentili prima con se stessi e poi con gli altri questo perché comunque l'unica persona che ci sarà sempre per noi siamo noi stessi dobbiamo imparare a convivere con la persona che siamo con il corpo che ci ritroviamo perché per quanti cambiamenti, miglioramenti, differenze eccetera eccetera possiamo comunque attuare sul nostro fisico, sulla nostra personalità sempre noi siamo quindi bisognerebbe imparare a prendersi cura meglio di noi stessi io adesso parlo per me però parlando comunque anche con altre ragazze soprattutto su Instagram è venuta fuori come cosa che non spesso cioè raramente comunque ci si dedica le giuste attenzioni e il giusto tempo ad esempio quando è stato San Valentino ho visto delle cose che sinceramente non mi sono piaciute nel senso è una festa molto discutibile per carità ognuno fa poi quello che vuole però mi ha dato fastidio tra virgolette non è che non ho dormito la notte però ho trovato, cioè mi è dispiaciuto ecco più corretto mi è dispiaciuto vedere come alcune persone la prendessero molto sul personale il fatto che fosse la festa degli innamorati poteva secondo me essere un'occasione per ribadire quanto fosse importante volersi bene in primis io nel mio piccolo ho passato la giornata da sola sono andata in centro da sola mi sono presa un tè, ho fatto compere tutto quanto da sola perché sì, perché me lo meritavo merito anche io di stare bene e solo perché magari sono da sola non ho qualcuno in quel momento in generale nella vita non significa che io non possa essere felice o non possa fare alcune cose vedo soprattutto fra le persone un po' più insicure e timide che l'essere da soli è un grande limite non escono magari di casa non vanno a presentazioni, mostre, eventi eccetera eccetera solo perché sono da soli io non ci vedo nulla di male so che magari a volte si viene additati un po' come quelli sfigati perché si è da soli, non si hanno amicizie o in generale comunque non c'è qualcuno con cui uscire in realtà secondo me fare le cose da soli innanzitutto aiuta ad acquisire molta più sicurezza consapevolezza di se stessi e poi in generale perché limitarsi perché solo perché che so sono da sola non ho amici in un certo posto o magari non sono disponibili in un giorno in cui voglio uscire perché io mi devo privare dell'esperienza comunque di uscire di fare qualche cosa solo perché sono da sola anche il fatto di eh però attorno a me magari non ho grandi opportunità non c'è niente da vedere qua attorno cioè a lungo andare secondo me sono poi delle scuse perché io non vivo in una grandissima città e anche prima di trasferirmi qua vivo in un posto ancora più piccolo ma non mi sono mai privata comunque dell'occasione, dell'opportunità di uscire di fare quello che volevo fare solo perché magari in quel momento ero da sola o perché magari non conoscevo nessuno con cui andare in un certo posto non è facile non è una cosa che ti viene così spontanea cioè tutti siamo magari in difficoltà però finché non si prova non ci si sprona non si fa magari un piccolo passettino alla volta è difficile poi andare avanti secondo me è una cosa che aiuta tantissimo aiuta perché in questo modo si è più liberi essenzialmente di fare qualunque cosa tanto io sto in camera sembra molto più bello di quello che è dal vivo lo devo sfumare forse ancora meglio queste occasioni comunque secondo me permettono di acquisire sicurezza indipendenza che è una cosa secondo me molto importante cioè al di là che voi siate in coppia o meno è importante avere la propria indipendenza una cosa che sento spesso dire è da soli se si è single è meglio perché in coppia poi non si esce più da soli non si hanno più delle amicizie che siano soltanto di una persona ma sono sempre solo condivise eccetera cioè questa non è una cosa secondo me troppo sana io sono in una relazione da ormai 11 anni e io ho le mie amiche che non sono necessariamente amiche del mio compagno lui ha i suoi amici che magari io non conosco bene non sono anche amici miei io ho le mie passioni, i miei hobby, le mie cose da fare e lui ha le sue cioè non è che stando insieme si perde il senso di identità proprio non so bene come spiegarlo però secondo me se si va a perdere questa cosa c'è qualcosa che non funziona perché solo perché sono con un'altra persona non significa che io non sia più io cioè non divento un'altra persona sono comunque sempre io devo mantenere i miei hobby, le mie cose le mie amicizie non devo solo vivere in funzione di un'altra persona anzi non devo proprio vivere in funzione di un'altra persona devo vivere in funzione mia per questo penso che sia doppiamente importante volersi bene ed essere indipendenti mantenere comunque la propria identità a me sembra comunque un po' più viola che blu questo colore almeno su di me non so adesso sto provando a scurirlo un po' con quello matte soprattutto qua alla fine ok così è più blu e quindi niente come vi dicevo ho tra virgolette intrapreso questo percorso in cui cerco, non dico ogni giorno però spesso cerco comunque di volermi bene di essere più gentile nei miei confronti noi vediamo noi stessi comunque attraverso il nostro filtro che spesso distorce la realtà e a livello di questo se abbiamo delle insicurezze è ovvio che vedremo certe parti del nostro corpo in maniera molto critica e molto negativa io penso di non essermi mai guardata allo specchio e di aver detto wow come sono bella stamattina ed è una cosa sbagliatissima e non è tanto una questione di vanità ma proprio di... è difficile da spiegare infatti sto proprio lavorando su questa cosa perché è difficile da spiegare magari per le altre persone ho sempre una parola gentile o buona mi viene veramente spontaneo non perché voglio fare la carina attenzione ma perché credo che sia molto importante dire alle persone quello che pensiamo di loro soprattutto se sono cose positive che cosa ci costa magari per noi è una sciocchezza una cosa banale, scontata per un'altra persona potrebbe essere molto prezioso invece quel complimento o quella parola quindi se io penso che una persona sia bella perché non dirglielo? magari potrebbe anche farla star bene e poi perché se questo potrebbe far star bene un'altra persona non potrebbe far star bene ad esempio anche me stessa perché devo sempre essere così critica con me perché mi devo trattare male penso che sia capitato a tutti di mangiare male quando si è in un momento di tristezza trattare male in generale il proprio corpo ecco quindi io sto cercando di nel mio piccolo poco alla volta di migliorare questo aspetto di prendermi più cura di me non tanto per essere esteticamente bella ma per sentirmi bene con me stessa nel mio corpo adesso provo a mettere al centro della palpebra garden gate che darà un tocco molto molto luminoso al tutto e a me piace applicare con le dita questi ombretti perché secondo me rendono molto di più attivamente non è super blu come trucco ma a guardarlo da qua anemone è blu sugli occhi almeno sui miei occhi risulta molto viola invece a questo punto prima di finire gli occhi una cosa che ho imparato a fare ultimamente è mettermi il mascara come ultima cosa se no rischio di sporcarmi quindi adesso vado a mettere un po' di correttore metto poco poco del naked skin nella parte più interna dell'occhio per contrastare un po' l'occhiaia e poi utilizzo invece il Dior Skin Forever Undercover per coprire un po' anche questi rossori qua in maniera leggera perché comunque mi interessa fino a un certo punto coprire le imperfezioni tanti io me le vedo comunque a proposito di insicurezze che tra l'altro ve ne avevo parlato comunque anche su Instagram perché stavo leggendo vita su un pianeta nervoso di Matt Haig e a un certo punto quest'autore parla del fatto che ha avuto un periodo in cui si trattava proprio male trattava male il suo corpo perché non si piaceva si vedeva un difetto che oggettivamente non c'era però lui se lo vedeva perché appunto come dicevo prima ci vediamo sempre in maniera distorta per sfumare ho utilizzato il 286 di MAC che è l'unico pennello credo di MAC in cui ho investito e lo rifarei mille volte perché mi piace molto come sfuma il resto del correttore o meglio quello di Dior invece lo sfumo con questa spugnettina di Real Techniques io ho anche quella più grande ma a Natale mi hanno regalato un set con le spugnette piccole mi piacciono molto di più mi sa che porterò un po' di blu anche sotto per bilanciare un po' gli occhi e vado direttamente con questo qua matte devo ancora capire bene se mi piaccio o meno con il trucco portato anche sotto perché a vederlo sulle altre persone trovo che stiano meglio su di me forse mi vedo meglio così invece la mia combo di mascara è rimasta la stessa ovvero utilizzo prima il primer Lancome Sales Booster questa è già la seconda confezione mentre questo forse è il secondo terzo volum de chanel che compro perché mi piace da impazzire no credo sia solo il secondo per Natale comunque mi hanno regalato un nuovo primer per le ciglia di Smashbox photo finish lash primer e il mascara con lo stesso pack non ho mai provato nulla di Smashbox se non sbaglio quindi magari appena finisco questo che ormai manca poco purtroppo potrei provare questa combo qua sono molto molto curiosa mentre aspetto che si asciughi un po' il primer passo direttamente alle labbra non so se mettere prima un rossetto e poi il gloss non ho messo il blush aspetta metto prima il blush questo di MAC mocha è un colore abbastanza freddo a questo punto passo anche all'illuminante ovvero questo qua è di Becca nella colorazione Moonstone non so come facciano a fare le riprese forse hanno proprio la luce che butta sullo zigomo non lo so tutte le volte che me lo metto mi guardo e mi dico ma l'ho messo cioè non so bene come direzionare tipo lo specchio la luce a volte semplicemente forse non ne ho voglia e basta io mi sorprendo sempre dell'effetto tipo prima e dopo delle mie ciglia magari metto un punto luce philosophy questo qua bianco rosa sempre di Nabla sulle labbra alla fine vado semplicemente di gloss questo è di Nabla c'è in theory lip gloss mi piace veramente un sacco sia da solo che sopra magari a un rossetto vedete quanto è luminoso anche se ne ho messo poco è abbastanza trasparente per le perle che ha all'interno risulta leggermente pesca questo risultato finale mi vedo strana perché non sono abituata a truccarli anche sotto e soprattutto con colori così scuri e soprattutto il blu non so è strano però voglio abituarmi perché penso che quello di freddy mi stiano bene per concludere comunque il discorso che facevo poco fa sì a me piace essere gentile con gli altri però come vi dicevo non mi piace mentire o dire una cosa carina tanto per dire una cosa carina no se ho qualcosa di carino se penso qualcosa di carino di una persona allora glielo dico cerco di farmi meno problemi a dirglielo non perché io mi aspetti qualcosa in cambio ma perché penso sempre che le persone a cui voglio bene è giusto che sappiano che io voglio bene loro è giusto che si sentano apprezzate amate cerco di essere gentile di aprirmi di più anche con le persone che conosco di meno ma non lo faccio mai per un ritorno penso che la gentilezza ogni tipo di azione gentile verso un altro debba essere fatto perché ce lo sentiamo perché vogliamo far star bene quell'altra persona o semplicemente pensiamo è una cosa che a me non costa nulla è una cosa che penso e che mi viene da fare perché mi devo trattenere solo per mie paranoie magari questo piccolo gesto potrà essere molto d'aiuto per un'altra persona quindi cerco sempre di mettermi in quest'ottica fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del trucco se avete magari delle palette degli ombretti sul blu su toni freddi che mi consigliate di sbirciare che vi piacciono particolarmente perché mi piacerebbe truccarmi di più di blu però come avete visto nella mia collezione non ci sono tanti blu e i blu che ho su di me risultano un po' più viola fatemi anche sapere che cosa ne pensate riguardo alla gentilezza soprattutto verso voi stessi se avete voglia di raccontarmi le vostre esperienze i vostri pensieri insomma quello che volete sarò ben felice di rispondervi spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima ciao